Clima natalizio anche a Buccino, in provincia di Salerno, con i canti gospel nella Chiesa Madre, musica e voci di Sweet Lou con l'Italian Gospel, diretti dal maestro Francesco Finizio, hanno trasportato il pubblico in un susseguirsi di emozioni sonore con meritati applausi anche per la finalità benefica della serata. Per Marcello Nardiello, presidente della Proloco, soddisfazione per la riuscita dell'evento che mira a rivitalizzare la cittadina e in particolare il centro storico di Buccino.